Ciao, siamo Lala e Poo. Oggi non vi parleremo né di un gioco da tavola né di un giocattolo, ma bensì di un gioco elettronico. Si tratta di Lights Out, della Tiger distribuita in Italia dalla Jig. È del 1995 e funziona con tre batterie AA. Ricordatevi che ogni qualvolta cambiate le batterie il gioco ricomincerà da casa. Bruciatelo se lo avete a casa. Non è vero, è bellissimo. È un gioco, un rompicapo. Chi ama i rompicapi questo gioco lo amerà. Io non so se è diffuso o meno, io ce l'ho da quando sono piccola, perché mia zia mi regalava sempre dei giochi che non andavano per niente di moda, in quanto ritrovava il sconto. Si accende da questo bucciante on-off e fa questa melodiosa simfonia. Quando ha finito potete decidere di togliere il suono in uno consiglio. Quindi questa è la schermata di partenza dove potete scegliere la modalità di gioco con Select. Nella prima modalità di gioco, premendo Start, potete risolvere le batter. A seconda di dove è la lucina, ci sarà una difficoltà crescente. Io sono arrivata a questo livello qua, diciamo che è l'ultimo, quindi è molto difficile. Potete chiedere per le prime due mosse aiuti dal computer premendo il tasto Help. Il fine del gioco è quello di spegnere tutte le luci. Come potete vedere, se io premo questo pulsante qui che è spento, si accenderà sia lui sia tutti quelli intorno a formare una croce. Se io invece premo questo pulsante qui che è sempre spento, si accenderà, ma si accenderanno anche quelli vicini, ma se uno è acceso si spegnerà. In questo caso si spegneranno i pulsanti attorno e il pulsante che premo si accenderà. E così via. Secondo questo criterio dovete riuscire a spegnere tutte le luci. Nella seconda modalità di gioco invece, come si fa? Col select. Sì, col select. Risolverete vari rompicapi relativi al vostro livello di gioco nella prima modalità di gioco. Quindi se nella prima modalità di gioco vi troverete a questo l'ultimo livello, anche i rompicapi nella seconda modalità di gioco saranno relativi a quel livello lì. Interessante invece è la terza modalità di gioco che si sceglie sempre con select. In questo caso potete fare voi il vostro puzzle personalizzato e per farlo parte le permette start. Il manuale consiglia però di utilizzare vari puzzle già preimpostati perché a questi ci sarà sicuramente una soluzione. Molti invece sono senza soluzioni. ho detto tutto di questo gioco, se lo trovate compratelo assolutamente perché è molto bello e ha anche un design molto futuristico che io amo molto, quindi spero che questo tutorial vi sia tutorial, non è proprio tutorial, è una recensione, vi sia piaciuta. Teniamo tutto tutorial. Alla prossima! Ciao! Ciao! Ciao!